Salve a tutti, in questo video vediamo come risolvere il problema di A-Siri che non funziona. Allora, prima di tutto andiamo su impostazioni e andiamo a Siri e ricerca. Dobbiamo assicurarci innanzitutto che siano spuntate queste, abilita A-Siri e usa Siri quando bloccato. Queste sono essenziali, se non lo sono spuntatele e riprovate, magari adesso funziona. Se invece ancora non funziona proviamo a disabilitare e a riabilitare questo. E adesso rifacciamo la configurazione. Ecco qua, una volta completata la configurazione, che qua ho saltato per motivi di tempo, facciamo fine e riproviamo ancora per vedere se adesso funziona. C'è un'altra cosa che possiamo fare, sarebbe andare su impostazioni, accessibilità e qua su Siri e ricerca, Siri, Siri e basta. Possiamo spuntare anche, abilita sempre i Siri. Questo ci consente di farlo funzionare anche quando lo schermo dell'iPhone è rivolto verso il basso oppure è coperto. Quindi se questo è il vostro caso, allora questa può essere l'ultima soluzione. Spero di avervi aiutato a risolvere il problema. Un saluto. Un saluto. Un saluto.